Le vicende biografiche e spirituali del fondatore dei Gesuiti. Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa. La vita di Cristo. Dalla sua conversione religiosa, vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosina. Ma lui è un loiola! Alle prime attività come predicatore. Noi siamo l'esercito di Dio! Ignazio di Loyola. Domenica alle 21.20.